Il leone e la volpe. Un leone ormai vecchio non era più in grado di procurarsi il cibo da solo. Riflettè a lungo e si convinse che per sfamarsi avrebbe dovuto ricorrere all'astuzia e all'inganno. Così mise in atto un trucco geniale. Si nascose dentro una grotta e si finse malato. Molti animali per compassione vennero a fargli visita per sollevargli il morale. Entravano uno alla volta. Man mano che venivano avanti il leone li afferrava e li divorava senza alcuna fatica. Un giorno arrivò una volpe. Si fermò verso la grotta e studiò la situazione. Scrutò il terreno. Osservò le impronte e senza entrare chiese con gentilezza. Buongiorno amico leone. Come stai? Male, molto male, rispose quello gemendo. Perché non entri? Accomodati, mi farai felice. Entrerei ben volentieri, osservò la volpe, se non vedessi una gran quantità di impronte di animali che sono entrati e nessuna di quelli che sono usciti.